Oggi uno spumone al caffè, zero calorie Se vuoi vivere con gusto, due cuore, una cappa, il posto giusto Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina reale Oggi faremo uno spumone al caffè, ice, freddo, veloce e con zero calorie Eh sì, adesso andiamo di là e poi ci facciamo qualche chiacchiera qua Ed ecco gli ingredienti per il nostro spumone ice Allora una capsula del caffè da fare è una compressina di aspartame Io sto usando questo, questo per la versione zero calorie Se invece siete contrari all'aspartame potete mangiare lo zucchero Non è il mio caso in questo momento che non posso assumere zuccheri completamente Al vostro caffè aggiungete la dose di zucchero che prendete abitualmente col caffè Uno, due cucchiaini a seconda del vostro gusto Manca l'acqua perché naturalmente sfrutteremo quella del caffè E se fate questo lavoro con la moca Fate conto che per ogni spumone ice ci vogliono almeno due caffè allungati Con una tazzina da caffè di acqua Cominciamo subito Come prima cosa e unica devo preparare il mio caffè Farò un caffè molto lungo Eccomi qui con il mio caffè Super lungo, pilloline di aspartame o quantitativo di zucchero che voi utilizzate nel vostro caffè Per intenderci questa è una capsula con la quantità di tre tazzine di caffè Quindi è come se avessi fatto tre tazzine di caffè ma con una capsula sola Per la moca due tazzine colme di moca più una colma di acqua E aggiungete il dolcificante che preferite Mescolate ben bene Adesso copriamo Ok E riponiamo in freezer per almeno tre ore e mezza Deve solidificare ma non del tutto Cioè deve avere i bordi solidificati ma al centro il cuore non deve essere totalmente totalmente solido Deve essere solido al 70-80% Poniamo in freezer e ci vediamo tra quattro ore Trascorso il tempo avrete questo Quindi un prodotto per lo più solidificato ma con un po' di liquidino Come tempo indicativo io vi ho dato le quattro ore Ma ovviamente questo dipende anche dalla profondità del vostro contenitore Se avete una larghezza maggiore il vostro liquido genererà molto più velocemente Quindi state attenti A questo punto prendiamo un frullatore Prendo il mio caffè ghiacciato E dopo aver frantumato un po' il caffè Io l'ho fatto con un coltello Perché il mio era un bel po' ghiacciato Inserisco Il caffè ghiacciato nel frullatore E inizio a frullare Bene Da prima sfrantumo Semplicemente i cristalli di ghiaccio Adesso inizio a montare Voi noterete la consistenza che si modifica Perché da che vedrete i piccoli pezzetti di ghiaccio Il volume aumenterà perché ingloberà aria E la consistenza diventerà più spumosa Vellutata Potrebbe rimanere qualche pezzotto di ghiaccio Se come nel mio caso avete messo dei pezzi di ghiaccio molto grossi Vedete Ma non importa perché o aggiungete anche dell'acqua Io non lo farò Oppure invece del ghiaccio in cubetti Lasciate questo E vi farà un po' da ghiaccio in cubetti Aromatizzato il caffè Ma adesso montiamo Basta chiacchiere E' pronto Eccolo qua In tutto il suo morbido splendore Prendiamo un bicchiere Guardate Non viene giù Perché è spumosissimo E versiamolo morbidamente all'interno del bicchiere Sembra un po' il frappuccino di Starbucks Per intenderci Come consistenza E come anche bontà Poi con l'aspartame Sa appunto Qua ci sono i ghiaccetti di caffè Che non ho scomposto Ma se voi lo prendete prima Cioè lo tirate da fuori dal frigo Meno ghiacciato del mio Questi non vengono fuori Ed ecco qua Un gelatino Diciamo così Uno spumone Zero calorie E tutto il gusto Del vostro caffè preferito Morbido morbido Mmm Aromatico aromatico Potete anche lasciarlo sciogliere un pochino E berlo così A sorsi morbidi e vellutati Ghiacciato Buonissimo Ice Vedete Non si capovolge Ice Lo spumone Zero calorie Vi lascio le foto Bene avete visto com'è semplice farlo Quindi anche se avete il frullatore più stupido del mondo Potrete anche voi fare questo spumone al caffè Allora è facilissimo da fare Ci sono semplicemente due accortezze da avere cura Dovete superare il tempo di montatura dell'acqua In pratica è del caffè Quindi anche se con le prime frullate Potete farlo con qualsiasi frullatore Anche immersione Anche se con le prime frullate Vi sembra che venga fuori una granita comune Voi perseverate Montate 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 E vedrete che a un certo punto varierà di struttura e di volume A quel punto avrà la consistenza di una nuvola fredda al caffè Tutta da gustare So che per molti di voi l'aspartame fa schifo Lo fa anche per me Per adesso sta assolvendo a una mia esigenza Ma potete sostituirlo con la quantità di zucchero desiderata E monta anche da amaro Viene buonissimo anche da amaro se prendete il caffè Bene E quindi se non vi risulta è proprio perché non ci mettete testa Perché è veramente semplice Anche per lui Anche per me Anche io riesco a farlo Quindi non andiamo oltre Noi vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo video Sempre qui sulle vostre tavole Ciao